Fiducia innanzitutto è una sensazione che tu provi, quindi quando tu ti fidi di te stesso, di qualcosa o di qualcuno, tu hai questa sensazione del questa cosa c'è, ha valore, esiste, mi posso aprire, quindi se hai fiducia in me anche in una chiacchierata ti apri e magari mi racconti cose che non avresti raccontato magari alla persona che conosci da anni. Se hai fiducia in me, se ti dico di fare questa cosa, la fai perché ti fidi e quindi anche nel business la fiducia è importantissima, se io mi fido di te fare business è facilissimo, vabbè dai ok, poi il contratto lo fermiamo dopo, tanto iniziamo, se non mi fido di te prima di iniziare passano le settimane finché l'ultimo cavillo ed è già uno stress, fiducia è il collante di ogni relazione, quando manca la fiducia di fatto quella relazione è sempre a rischio perché basta la minima cosa per poterla far salire. In ogni relazione, perché penso dal figlio, dal personale o professionale? Per tutto.